Vivi senza macchia, metti in chiaro la tua vista. Questo è il messaggio per la settimana mondiale del glaucoma che si celebra sino al 18 marzo. Un appuntamento annuale dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione delle Cecità in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti alla quale è aderito anche l'azienda sanitaria. Il glaucoma è una malattia dell'occhio legata alla pressione oculare che colpisce circa un milione di italiani, metà dei quali non lo sa. Se la patologia viene lasciata al suo naturale decorso può portare anche alla cecità nei casi più gravi e quindi diventa fondamentale intervenire in prevenzione perché una diagnosi tardiva ha meno probabilità di arrestare questo decorso in fausto. L'invito è quello ad effettuare una visita oculistica senza rimandare. Nel confronto delle patologie degenerative agire un po' in anticipo perché sappiamo che comunque non esiste una cura definitiva sulla degenerazione, quindi a differenza di un'infezione che io do un antibiotico e risolve nell'arco di qualche giorno in un periodo limitato la patologia degenerativa richiede delle cure lunghe. E queste cure sono tanto più efficaci quanto prima noi interveniamo con i vari strumenti terapeutici che nel caso del glaucoma sono terapia medica e talvolta intervento chirurgico. Per la settimana del glaucoma le associazioni hanno unito le forze in una serie di appuntamenti dai controlli oculistici agli incontri divulgativi e alla distribuzione di materiale informativo. Grazie.